Un grande cerchio dorato all'ingresso della Rezzo Fiere Congressi a simboleggiare l'eccellenza orafa del territorio aretino. È tutto pronto per l'edizione 2016 di Gold Italy, la grande fiera dedicata al mondo dell'oro e del gioiello Made in Italy che si terrà al centro fieristico aretino dal 22 al 24 ottobre. Partiamo dai numeri, quali sono quelli di questa edizione? I numeri sono numeri molto importanti, siamo in crescita di circa 20-25 aziende a 280 aziende che rappresentano il meglio del Made in Italy da tutti i distretti principali ma non soltanto, quindi Arezzo, Vicenza, Valenza e abbiamo oltre 400 buyer per un totale di volume di affari complessivo che hanno nel corso dell'anno di 7 miliardi e mezzo di dollari. Ecco buyers provenienti da tutto il mondo? Provenienti da tutto il mondo, prevalentemente dai paesi che storicamente si approvvigionano di Made in Italy, quindi ovviamente i paesi arabi ma non soltanto. Quest'anno abbiamo delle novità, oltre ovviamente ai mercati già consolidati come Stati Uniti, Hong Kong, Turchia e i paesi dell'ex Unione Sovietica. Abbiamo una corposa delegazione dall'India. È un momento molto complicato per l'export italiano in generale e non soltanto nel settore orafo. C'è stata una flessione del 5,9 per il distretto di Arezzo che è stata meno della metà rispetto agli altri distretti. Questo sicuramente non ci consola però ha consentito in questi mesi di riposizionare i campionari e adattandoli a mercati in questo momento molto più ricettivi rispetto al Made in Italy, penso in particolare a quelli anglosassoni. Ritorna anche il tradizionale contest d'autunno Gold Italy che quest'anno svilupperà il tema Create Your Love, concorso legato agli anelli. Quindi è un contest molto molto particolare e devo dire che ormai da tantissimi anni, una volta terminata la fiera, dalla Cina vogliono espressamente questo allestimento proprio per creare delle manifestazioni ad hoc sul Made in Italy. Quindi è sicuramente un contest molto interessante che detterà le nuove tendenze del prossimo anno.